La DIA di Caltanistetta ha dato esecuzione ad un decreto di confisca emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale Nisseno su proposta del direttore della DIA, il generale di divisione Giuseppe Governale, nei confronti del libero professionista Rosario Marchese, 32enne di Caltagirone ma residente a Brescia, agli arresti per reati di mafia presso il carcere Opera di Milano. Il provvedimento, che gli ha aggravato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per ulteriori due anni, trae origine da un'attività condotta dal reparto e investigazioni preventive della DIA, finalizzata alla localizzazione degli illeciti patrimoni riconducibili alle organizzazioni mafiose, che ha permesso di focalizzare l'attenzione su Rosario Marchese, contiguo sia alla Stida che al noto clan mafioso dei Rinzivillo, operante a Roma che in tutto il territorio nazionale. Il provvedimento di confisca, che segue il sequestro effettuato nel febbraio del 2019, ha interessato beni stimati in oltre 15 milioni di euro, 11 società e due ditte individuali con sedia a Brescia, Bergamo, Milano, Torino, Verona, Roma e Gela, che operano nei settori della consulenza amministrativa, finanziaria e aziendale, della sponsorizzazione di eventi e del marketing sportivo, del noleggio di otto vetture e mezzi di trasporto marittime ed aerei, del commercio all'ingrosso e al dettaglio, di prodotti petroliferi, di studi medici specialistici, della fabbricazione di apparecchiature per illuminazione e della gestione di bar, un'opera pittorica di assoluto valore artistico risalente al XVII secolo per un valore di circa 6 milioni di euro, una holding con ufficio a Milano in via Monte Napoleone, una società di noleggio che gestisce presso la struttura aeroportuale del Catullo di Verona, una flotta di vetture di lusso, una società con sede a Roma che sponsorizza e partecipa a presigiosi campionati monomarca di auto da competizione, 5 beni immobili e 50 rapporti bancari. Gli accertamenti condotti nel 2018 dal reparto della DIA e gli ulteriori riscontri effettuati dal centro operativo di Caltanissetta hanno consentito di mettere in evidenza il suo repentino incremento di ricchezza, ritenuto complessivamente anomalo rispetto alla dichiarata posizione reddituale risultata sproporzionata anche il rapporto all'elevato tenore di vita, al consistente patrimonio immobiliare e soprattutto alla sua ascesa imprenditoriale che si è concretizzata in brevissimo tempo con la Costituzione nel nord Italia di numerose società che operano in molteplici settori commerciali risultate tutte direttamente o indirettamente a lui ricondugibili.